Buongiorno, oggi facciamo un esercizio sulle simulazioni, però prima di tutto avete delle domande su laboratori, esercizioni passate o sulle simulazioni? Tutto chiaro finora? Ok, allora se è chiaro, l'esercizio che svolgiamo oggi si chiama BABS, vogliamo simulare il Bike Sharing di San Francisco e vi ho creato un progetto su Github dove potete trovare sia il testo al laboratorio che il progetto di base che il database. Quindi su Github se andate su TDP 2018 simulazione BABS trovate sia il testo al laboratorio che il progetto base. Quindi, che cosa ci chiede questo esercizio? Si considera il dataset messo a disposizione del servizio di Bike Sharing dell'area di San Francisco. Il dataset contiene, nella tabella Station, le informazioni sui punti di interscambio installati, caratterizzati ciascuno da un nome, dalle coordinate e il numero di posti bici disponibili e la città. I singoli viaggi compiuti con le biciclette sono rappresentati nella tabella TRIP che registra la durata in secondi di ciascun viaggio. Unitamente alle stazioni di partenza e di arrivo, data e ora di presa e di riporto e l'identificativo numerico della bicicletta. Quindi abbiamo due tabelle, la tabella Stations e la tabella TRIP. Io l'ho già importato, il database è piuttosto grosso, per questo ve l'ho messo in forma zip, sono 45 MB, perché ci sono un sacco di informazioni sui TRIP, sui viaggi. Quindi abbiamo la tabella Station che continua la lista di stazioni, sono 71 stazioni e la tabella TRIP che invece ha 312.000 entry. In la tabella TRIP abbiamo la durata, l'orario, il timestamp di partenza e di arrivo, l'identificativo della stazione di partenza e quello di arrivo. Tornando al testo, abbiamo due punti. Questa è una simulazione d'esame, quindi vedete già anche come possiamo approcciarci ad un tema d'esame e come risolverlo nel modo più efficiente possibile, cercando di non perdere tempo. Tipicamente nel tema d'esame ci sono sempre due punti e quindi essendo questa una simulazione è strutturata nello stesso modo. Il primo punto, permettere all'utente di selezionare una data ed elencare per ogni stazione il numero totale di TRIP in partenza da tale stazione nella data selezionata ed il numero totale di TRIP in arrivo nella stessa data. Quindi selezionate una data in l'interfaccia grafica, poi premete un qualche bottone e quello che dovete stampare è per ogni stazione il numero di TRIP in arrivo e il numero di TRIP in partenza da quella stazione in quella data. Le stazioni devono essere elencate in ordine di latitudine, partendo da nord e andando verso sud. Nel caso in cui nella data selezionata non siano presenti TRIP, indicarlo con un messaggio d'errore. Cerchiamo anche un po' di pensare come si può risolvere questo esercizio nel modo più efficiente possibile. Abbiamo visto che il database è piuttosto grosso. Quando è così grosso, diversi megabyte, la prima cosa che possiamo dire, la prima considerazione che possiamo fare è non portiamolo tutto in memoria. Soprattutto perché in questo tipo i database non abbiamo tantissime relazioni. Di fatto abbiamo solo due tabelle, una molto grossa e una molto piccola, che sono relazionate tra loro. Ma quella molto grossa contiene informazioni temporali su un periodo di tempo molto esteso e quindi non ha senso portarla in memoria tutta perché noi poi andremo a lavorare su una specifica data. Quindi la prima considerazione che possiamo fare è selezioniamo una data, facciamo una query su quella data e prendiamo solo le informazioni che ci interessano. Siccome tra l'altro quello che chiede è un conteggio, possiamo sfruttare direttamente la query SQL count, quindi con il costrutto count, per ottenere direttamente il conteggio per ogni stazione del numero di trip in arrivo e in partenza. Quindi questo possiamo risolverlo in due fasi. Primo prendiamo tutta la lista di stazioni, secondo facciamo una query per ogni stazione, otteniamo questi due numeri e li stampiamo nell'interfaccia grafica. Quindi il primo punto è abbastanza semplice e lo risolviamo velocemente. Leggiamo anche il secondo perché secondo me è importante fin da subito leggere il primo e il secondo punto. Molto spesso il secondo è più semplice risolverlo se si struttura il programma in un determinato modo. Quindi cerchiamo di strutturarlo fin da subito nel modo migliore per non perdere tempo poi per dover riscrivere parte del programma nel secondo punto. Quindi si supponga di essere responsabile del servizio e di voler valutare attraverso una simulazione il bilanciamento ottimale dei posti disponibili. La data precedentemente inserita rappresenta il giorno da simulare. Tale giorno deve essere feriale, tra lunedì e venerdì, altrimenti la simulazione non deve essere effettuata. Si ipotizzi che all'inizio di tale giornata tutte le stazioni siano piene al k per cento della loro capienza massima dove k è un valore tra 0 e 100 indicato dall'utente. Si simuli poi il traffico di biciclette tra le varie stazioni senza tener conto dell'identificativo della bicicletta ma tenendo traccia solamente dell'occupazione delle stazioni. Quindi abbiamo una serie di stazioni, ogni stazione ha una sua capacità e questa informazione ce l'abbiamo nel DB perché abbiamo un field che si chiama doc count, quindi che ci dice il numero di posti, il numero di biciclette che possono essere installate in quella stazione. Noi vogliamo simulare quanto questo sistema è efficiente, quanto il sistema di bike sharing è efficiente. Quindi diciamo, facciamo un'ipotesi abbastanza forte, immaginiamo che all'inizio della giornata queste stazioni siano piene al k per cento, tutte uguali, tutte hanno la stessa capienza che pari al k per cento della loro capienza massima. Quindi se mettiamo in 50 vuol dire che la metà dei posti sono occupati, la metà dei posti sono liberi. Simuliamo, l'obiettivo è quello di, come dice dopo, il simulatore deve calcolare due parametri in funzione della data specificata del valore k, che sono il numero di prese mancate, cioè i trip in partenza di una stazione priva di bici ed il numero di ritorni mancati, i trip in arrivo in una stazione già piena. Cosa significa? Abbiamo queste stazioni che hanno una certa occupazione, immaginate che ci sia una persona che vada in questa stazione per prendere una bicicletta però non la trova perché è vuota. Oppure alla bicicletta cerca di lasciarla ma non può perché sono tutte già piene, perché tutti i posti sono pieni. Quindi dobbiamo calcolare quanto è efficiente il sistema in base a questi due valori che sono le prese mancate e i ritorni mancati. Questo cosa significa? Significa selezionare una data, selezionare nel database tutti i trip relativi a quella data, inizializzare le stazioni alla loro capienza iniziale che è il k% di quella totale e a quel punto iterare sui trip, su tutti i trip che abbiamo precedentemente selezionato, vedere come l'occupazione delle stazioni varia e calcolare questi due numeri. Quindi il programma è abbastanza semplice. Avete delle domande sul testo? È chiaro? Ok. Allora, se importate il progetto su Eclipse vedete che come al solito è strutturato nei tre packages, quello del controller, quello del DB e quello del model. Come al solito in quello del DB c'è la classe connectDB con il connection pooling. Proviamo a fare test connection per vedere che tutto sia ok e proviamo poi a fare test DAO per ottenere le informazioni. Quindi entrambi i test sul DAO funzionano, quindi la connessione funziona. Vediamo però che cosa ci ritorna il test DAO. Il test DAO chiama le funzioni che sono già state scritte in BabsDAO. Questo tipicamente, tipicamente in tutti i progetti base dell'esame forniamo una implementazione minima in modo tale che non dobbiate perdere troppo tempo per sia scrivere la struttura base con cui fare le query e sia creare i vari java bins. Quindi tipicamente queste informazioni già le forniamo. Questo è il classico progetto base. Ovviamente forniamo anche l'interfaccia grafica come poi vedremo. Quindi nel DAO abbiamo due query, due funzioni che fanno due query molto semplici, si apprendono tutti i valori da trip e da station. Importante, queste query non è detto che poi le dobbiate veramente utilizzare nel vostro progetto. Queste le diamo perché sono un modo semplice e veloce per creare l'igetti station o l'igetti trip a partire dalle informazioni del database. Quindi voi siete liberissimi di non utilizzarle, di cancellarle, di modificarle, di fare tutto quello che volete. Questa è semplicemente la nostra implementazione di base. È anche possibile che non le dobbiate usare del tutto. Semplicemente ritornano tutti i valori sia delle stazioni che dei trip, secondo lo schema già visto molte volte. Quindi nel test DAO, dopo aver creato il DAO, prendo tutte le stazioni, le stampo, perché sono poche quindi posso stampare il dettaglio. Non ha senso farlo con i trip perché altrimenti inchiodo il computer. O comunque ci sono buone probabilità di inchiodarlo perché quando si stampano così tante righe nell'interfaccia grafica è possibile che Eclipse non gestisca molto bene la console. E poi stampo il numero, la size del trip, quindi la dimensione dei trip. Ovviamente 45 MB di database non è tanto, è ancora un database piccolo. rispetto ai dataset reali. Tuttavia è già un dataset che, se non gestito correttamente, rallenta tantissimo il programma. Quindi è importante strutturare il codice nel modo corretto. quindi tornando all'outroot vedete che vedete che vengono stampate le stazioni che sono, abbiamo detto, sono circa 71, sono 71 e poi i trip che sono 315.000. Quindi cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare per risolvere il primo esercizio. Andiamo nel controller, vediamo che c'è già l'interfaccia grafica fornita, anche questo viene fornito sempre all'esame perché non perdete tempo. L'interfaccia grafica è possibile inserire una data, è possibile inserire questo valore k che serve poi nella simulazione, ci sono poi due bottoni, il primo relativo al primo punto e il secondo relativo, simula relativo al secondo punto. Quindi cerchiamo di risolvere il primo punto, do conta trip. Quindi per ogni stazione abbiamo detto che dobbiamo contare quanti sono i trip in arrivo e in partenza da quella stazione per quella particolare data. Come facciamo? Dobbiamo prima di tutto prendere la data. Quindi local date date uguale pic data punto get value date picker non so se l'avete meno utilizzato ma è un componente di ofx che implementa questo calendario che è molto utile perché in tutte le applicazioni reali quasi tutte le applicazioni reali a un certo punto bisogna inserire un calendario perché l'utente deve inserire una qualche data data di inizio del viaggio data di fine del viaggio quindi quindi viene già fornita l'implementazione java fx abbiamo la data dobbiamo a questo punto ottenere una lista di trip in arrivo e in partenza quindi abbiamo bisogno di un metodo del model che data una data mi restituisca per ogni stazione il conteggio qui diciamo model punto get trip count counts e gli passiamo date non pensiamo ancora che cosa il model ci ritorna perché magari ci viene più semplice stabilirlo mentre implementiamo il programma quindi semplicemente definiamo qual è la chiamata che facciamo al model e poi implementiamo questo metodo nel model il model è completamente vuoto quindi bisogna impostarlo la prima cosa che facciamo è creare il costruttore public model aperto e chiuso la graffa nel model di sicuro dobbiamo creare un riferimento al DAO quindi private bubs DAO chiamiamo BDAO questo BDAO lo inizializziamo poi nel costruttore BDAO uguale a new bubs DAO lo importiamo poi di sicuro avrò bisogno di una lista di station quindi private list station stations importo già avuto il list e come faccio a caricare le station devo chiamare il metodo del DAO corrispondente siccome abbiamo visto che c'è una relazione tra le due ossia in particolare c'è una relazione da 1 a n tra station e trip perché ad ogni trip è associato una situazione di partenza e una di arrivo potrebbe essere utile già a crearsi l'identity map di station perché come vedete da per ogni trip come vedete nello schemino per ogni trip è associata una station di partenza e una di arrivo secondo me la relazione in questo caso è utile soltanto dal punto di vista di trip cioè non andrei a inserire per ogni station la lista di trip perché abbiamo detto che non carichiamo tutti i dati in memoria però ha senso creare per ogni trip un riferimento effettivamente alla sezione non solo avere l'informazione sullo station id avendo questo in mente creiamo subito l'identity map di station in modo tale che la passiamo al metodo del DAO e quando il DAO crea la lista di station nel stesso tempo popola anche l'identity map di station quindi private station id map station id map e la station id map la inizializziamo sempre nel costruttore quindi station id map uguale new station id map così adesso quando chiamiamo il metodo del DAO bDAO punto get all station gli passiamo anche la station id map quindi fin qui dovrebbe essere tutto chiaro perché l'abbiamo fatto tantissime volte nel model creiamo questa nuova classe station id map questa nuova classe all'interno contiene una mappa che è privata questa mappa mette in relazione cosa? un intero che sarebbe l'identificativo della station con la station stessa map map uguale new hash map e importiamo già l'util map quali metodi dobbiamo ridefinire all'interno di station id map? abbiamo detto sempre il metodo get e il metodo put quindi public station get in cui gli passiamo l'oggetto station quello che facciamo all'interno del get è prendere l'oggetto che è contenuto all'interno della mappa vedere se è diverso da null se è diverso da null ritorniamo questo oggetto che abbiamo ottenuto dalla mappa altrimenti inseriamo quello che l'utente mi passa tramite parametro quindi station hold uguale map.get di station.get station id if hold è diverso da null ritorniamo il vecchio oggetto altrimenti inserisco quello nuovo quindi map.put station.get station id station importiamo station ah ovviamente poi alla fine return station perché se l'oggetto è già presente ritorno quello vecchio se non è presente lo aggiungo e poi ritorno quello che ho aggiunto dovremmo implementare anche il metodo put che però in realtà non utilizziamo quasi mai quindi evitiamo di implementarlo sempre in ottica di cerchiamo di fare il meno possibile ma di completare il tutto quanto di completare il testo dell'esame quello che ci serve è l'altro metodo get quello in cui effettivamente passiamo l'id e otteniamo l'oggetto questo metodo get non ci serve per creare l'identity map ma per ottenere gli oggetti che sono all'interno dell'identity map quindi public station get int station id e questo semplicemente fa un return di map.get station id tutto chiaro? volete fermatemi sempre se avete delle domande quindi torniamo all'interno del model adesso dobbiamo cambiare l'implementazione di del DAO di questo metodo del DAO diciamo di aggiungere questo parametro station id map e quello che cambia è quando facciamo result.add dobbiamo scrivere station id map punto get station quindi aggiungendo semplicemente questo aggiungendo semplicemente questa istruzione station id map punto get siamo sicuri di inserire gli oggetti una sola volta perché se un oggetto già esiste nella mappa non viene inserito due volte ma viene ritornato quello vecchio più che altro creare questo identity map poi ci viene molto utile non per risolvere tanto il primo esercizio ma per risolvere il secondo perché nel secondo poi inseriremo dei trip da questi trip dobbiamo ottenere la stazione è molto utile avere una mappa che ci mappi l'id della stazione con l'oggetto stazione stessa ovviamente il test dao adesso non funziona più ma non ci interessa perché possiamo commentarlo e torniamo nel model quindi alla fine del costruttore del model dovremmo avere già una volta che il metodo una volta che il costruttore termina abbiamo già caricato tutte le station e l'id map ora dobbiamo caricare i trip counts quindi abbiamo detto che dobbiamo iterare su tutte le stazioni e chiamare un nuovo metodo del dao che mi restituisca il contatore dei trip in arrivo in partenza per quella specifica stazione for station station due punti stations quindi iter su tutte le stazioni e per ogni stazione chiamo un metodo del dao questo metodo è nuovo quindi bdao punto get departures e cosa li passo station date bdao punto get arrivals e li passo station e date quindi questo è il mio metodo del dao mi restituiscono due interi due contatori tutto chiaro quindi li implementiamo creiamo il metodo get departures questo metodo è molto simile a trips get all trips quindi copio la struttura del codice di trips quello che cambia ovviamente è la query perché questa volta sono interessato a select count from trip perché ho bisogno di contare tutti i trip filtrando però per cosa per la data e per la sezione quindi where start date uguale appunto interrogativo and start terminal uguale punto interrogativo devo solo fare attenzione ad una cosa che io sto passando una data perché nell'interfaccia grafica ho selezionato una data non ho selezionato un timestamp quindi ho selezionato il 20 novembre del 2013 non ho selezionato il 20 novembre del 2013 alle 10 e 5 minuti e 4 secondi però le informazioni nel nel database sono sotto forma di timestamp quindi c'è anche l'informazione sull'ora come faccio a trasformare un timestamp in una data in SQL posso utilizzare la funzione date quindi si chiama la funzione date su start date quello che succede è che mi restituisce la data associata a start date e a questo punto posso effettivamente confrontarla con quella che gli passo riguardo al terminal invece è un numero quindi non è necessario fare alcuna modifica adesso devo però inserire entrambe le informazioni quindi st.set date il parametro è quello in posizione 1 e la data è date punto value of date questo perché devo trasformare un local date in date perché set date si aspetta un oggetto di tipo date e noi abbiamo un local date se non vi ricordate le varie conversioni sappiate che basta guardare questo schemino nelle slide che sono sul portale che sono sul sito e vedete come si fa a convertire quindi quando avete un oggetto timestamp se utilizzate toLocalDateTime tenete un local date se avete un oggetto date e volete trasformarlo in local date toLocalDate da local date a date utilizzate date punto value of quindi tenete a mente questo slide tra l'altro potete anche portarvela all'esame potete portarvi tutto il materiale che volete perlomeno cartaceo sulla parte di teoria quindi vi consiglio di portarvela quindi ovviamente quello che otteniamo in risultato come risultato non è più tutto questo while perché non abbiamo più dei singoli gettrip ma abbiamo semplicemente un intero un contatore quindi devo ancora scusate devo ancora settare il start terminal quindi st punto set int posizione 2 station punto station punto get station id quindi quello che ottengo il risultato è un intero quindi if rs punto next quindi se ottengo un risultato questo risultato lo salvo in una variabile che si chiama result che inizializza meno 1 e se la query mi restituisce qualcosa dico result uguale a rs punto get int column index che la chiamo count e nella query semplicemente rinomino questo count asterisco come count quindi cosa ho fatto ho creato un nuovo metodo del DAO faccio una query al DB faccio restituire un contatore ho direttamente l'informazione che mi serve devo semplicemente prenderla dal DAO prenderla dal DB spostarla al DAO che la sposta al model che la mette da qualche parte che la restituisce al controller il controller la stampa ma la cosa bella è che l'informazione è già disponibile non devo ulteriormente processarla ho già l'informazione che va stampata nell'interfaccia grafica chiudo la connessione e ritorno result cambiando anche il volo di ritorno che diventa int quindi se ho fatto tutto correttamente questo metodo mi restituisce quello che voglio torno nel model e devo fare la stessa cosa con getArrivals quindi creo il metodo getArrivals nel DAO questo metodo nuovamente mi restituisce un int copio tutto il codice che ho scritto prima e l'unica cosa che effettivamente cambia è questo start date che diventa end date e start terminal che diventa end terminal quindi questo start date diventa end date e start terminal diventa end terminal quindi nel modulo entrambe le informazioni cosa faccio per ritornare queste informazioni al controller abbiamo detto che il controller deve stampare per ogni stazione il numero dei trip in arrivo il numero dei trip in partenza quindi ho bisogno di un qualcosa che mi contenga una tripletta di informazioni e la cosa più semplice è creare un nuovo oggetto un oggetto di tipo result o count result che FadaWrapper è un java bin per queste tre informazioni in modo tale che creo un un'istanza di questo oggetto inserisco le informazioni che ho ricavato dal modello e dal database e lo ritorno al controller alternativa avrei potuto creare un listone di string o comunque concatenare diverse string con già il valore da stampare nel controller e il controller lo stampava dal punto di vista dell'utente finale non c'è differenza dal punto di vista della buona programmazione questo secondo sistema anche se è un pochino più veloce è abbastanza bruttino perché il model ritorna un'informazione che non è più facilmente gestibile perché ritorna una stringa e quindi questa stringa può essere semplicemente stampata non posso fare ulteriore processamento quindi cerchiamo siccome noi vogliamo sempre programmare in modo migliore vogliamo avere una vogliamo seguire i pattern di buona programmazione e cerchiamo di creare un nuovo oggetto che chiamiamo result o count result e in count result salviamo una station e due interi quindi private station station private int num arrivals private int num departures creiamo un costruttore perché ovviamente vogliamo poter creare un oggetto di tipo count result con già tutte le informazioni a cui quindi passiamo station arrivals departures lo facciamo fare e clips così facciamo prima e migelio il costruttore ora non c'è bisogno di creare tutti i getter e setter né hashcode equals semplicemente creiamo il metodo to string quindi at override questo perché tanto poi nel controller vado semplicemente a stampare questo oggetto non faccio alcun processamento e quindi nonostante abbia nonostante stia strutturando il mio programma nel modo corretto questo non vuol dire che debba effettivamente implementare ogni classe nella sua versione più completa posso anche solo implementare i metodi che effettivamente mi servono però l'importante è strutturare il programma in modo corretto quindi avere un oggetto per ritornare più informazioni public string to string e questo mi ritornerà una stringa quindi return string punto format per cento s per cento d per cento d ossia station punto get name num arrivals e num departures se vogliamo stamparlo in modo un pochino più carino aggiungiamo anche questo trattino 20 trattino significa linea sinistra 20 significa che gli diamo 20 caratteri di spazio per stampare questo campo forse 20 è un po' poco perché alcune stazioni hanno un nome lungo mettiamo 50 e faccio la stessa cosa per gli altri però i numeri li allineo a destra perché allineare i numeri sinistri è bruttino se ci sono se hanno differente lunghezza quindi gli do esempio per cento 4 e per cento 4 quindi sono 50 caratteri per allinearlo a sinistra 4 caratteri per allineare il numero a destra e 4 caratteri per allineare il numero a destra tra l'altro il format string la cosa bella il format string è che è compatibile più o meno con tutti i linguaggi quindi una volta imparata la sintassi che usiate python che usiate c è sempre uguale ok quindi possiamo salvare queste informazioni all'interno del model in un oggetto quindi count come si chiamava count result cc uguale new count result in cui inserisco l'oggetto station il numero di arrival e il numero di departure scusate se è un pochino lungo se volete potete anche spezzarlo creando delle variabili intermedie ma l'importante è che abbiate questi tre field tutti questi count result li devo mettere in una lista e poi ritornare alla lista di count result quindi list count result che chiamo results è uguale new array list di count result quindi per ogni stazione avete due informazioni associate mettiamo per ogni stazione tutte queste informazioni all'interno di un oggetto avremo quindi tanti oggetti risultato devo salvare questi oggetti risultato in una qualche struttura dati e poi ritornarla al controller la struttura più semplice in questo caso è una lista anche perché se vi ricordate poi dovremo ordinarli dovremo ordinare questi risultati sulla base di un criterio che è quello della latitudine con latitudine crescente quindi importo array list e aggiungo a results l'oggetto cc count result e alla fine del mio metodo ritorno results ovviamente devo anche cambiare il valore di ritorno del metodo che diventa list di counter result tutto chiaro fin qua quindi posso tornare nel controller nel controller questo metodo del modulo mi ritorna un list di count result che chiamo results e semplicemente quello che faccio è itero su questo results e stampo ciascun oggetto quindi for count result cc due punti results text result punto append cc punto to string alcune cose alcuni dettagli innanzitutto quando entro nel metodo txt quando entro nel metodo do contact trip devo cancellare txt result quindi txt result punto clear seconda cosa in count result devo aggiungere il backslash n perché altrimenti non va a capo perché quando faccio string.format mi stampa mi restituisce la stringa nel formato in cui ho specificato diverso da println println già aggiunge la capo perché quellln sta per newline a capo quindi se voglio andare a capo con string.format devo aggiungere il backslash n un'altra cosa molto importante è che se vi ricordate nel modulo abbiamo creato questa identity map di station e abbiamo usato come chiavi l'intero e station ora in questo caso non avremmo non dovremmo avere problemi perché non abbiamo usato come chiave l'oggetto station stesso ma in ogni caso è sempre meglio per evitare confusione magari nell'implementazione futura aggiungere anche esco the equals a station a station e trip perché ricordatevi che nell'implementazione che noi diamo in genere non mettiamo l'implementazione di nell'implementazione di java bin non mettiamo né quella di hashcode né quella di equals un po' perché dovete farlo voi visto che era uno degli argomenti chiave del corso e un po' perché comunque l'implementazione varia in base alla semantica che voi date al programma perché non è unica se voi implementate il programma in modo differente dovete implementare anche hashcode e equals in modo differente quindi per evitare confusione e lasciarvi la massima libertà dovete implementare hashcode e equals in questo caso direi siccome esiste un id utilizziamo l'id che è la versione più semplice e sfruttiamo Eclipse per creare questi due metodi un'altra cosa che possiamo fare anche visto che ci siamo aggiungere il il toString e stampare il nome return dis.name quindi ricapitolando quando aprite il testo dell'esame cercate di capire quali sono le informazioni di cui avete bisogno cercate di capire quali java bin sono stati implementati e controllate subito se in questi java bin dovete creare hashcode e equals fatelo fin da subito perché poi vi dimenticate facciamo la stessa cosa anche in trip quindi al fondo di trip creiamo hashcode e equals sempre utilizzando l'id come identificativo in questo caso il toString lo lasciamo perdere perché non credo che andremo mai a stampare un trip un'altra cosa che dobbiamo fare è quella di ordinare risultati per latitudine crescente perché abbiamo detto che da nord a sud San Francisco si trova nell'emisfero superiore quindi dobbiamo ordinare la latitudine in ordine crescente quindi vuol dire che in connect count result devo implementare il metodo comparable ho due modi per fare il sorting di un array uno è utilizzare collection sort e passargli un comparator il secondo è invece chiamare collection sort e sfruttare l'implementazione di comparable all'interno della classe noi utilizziamo la seconda versione quindi implementiamo l'interfaccia comparable all'interno di count result e in comparable specifichiamo che l'oggetto con cui andiamo a fare il confronto è un altro count result ovviamente adesso ci darà errore perché dobbiamo implementare il metodo compare to cosa fa questo metodo semplicemente fa il confronto tra le due latitudini cos'è la latitudine andiamo a vederlo la latitudine è un double quindi è specificato secondo forse un formato diverso rispetto a quello che avevamo utilizzato nel flight non mi ricordo ma in questo caso è un double non c'è necessità di utilizzare quella classe wrapper che abbiamo utilizzato l'altra volta perché non stiamo calcolando le distanze tra due stazioni l'altra volta dovevamo calcolare le distanze tra due aeroporti quindi abbiamo utilizzato questa classe lat-long in questo caso invece dobbiamo semplicemente ordinare delle stazioni per la latitudine crescente quindi ondouble sfruttiamo il compare intero di double quindi return double punto compare fa il confronto tra station punto get lat e o punto get station punto get lat ci manca il metodo get station quindi creiamoci un getter per la stazione public station get station return this punto station questo perché facciamo il confronto tra questo perché facciamo il confronto tra un oggetto compare un oggetto count result e un altro oggetto count result sull'oggetto stesso conosco station perché l'ho salvato dentro il mio oggetto e quindi posso fare semplicemente station e questo si riferisce all'oggetto salvato all'interno di count result però quando ho bisogno di ottenere la stazione di o che sarebbe l'altro oggetto siccome la stazione è dichiarata come privata non posso accedere qui ho bisogno di un getter e definisco un getter per ottenere la stazione tu dici che mettendo la variabile privata dall'esterno tu avessi comunque visibilità sul ok fammi vedere quindi tu double.compare o.s sì hai ragione probabilmente perché effettivamente sì perché siamo perché siamo dentro la nostra classe sì hai ragione hai ragione sì 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 è questo il motivo grazie quindi utilizziamo l'implementazione migliore del vostro compagno ed eliminiamo il getter e quindi semplicemente confrontiamo le attitudini delle due stazioni quindi nel model prima di ritornare al result chiamo collection punto sort results collection collection punto sort results quindi in get trip counts per ogni stazione ottengo i due contatori contatori li salvo all'interno di una lista ordino la lista la ritorno al controller il controller itera e stampa l'oggetto quindi vediamo se abbiamo implementato il tutto correttamente andando ad eseguire il programma selezioniamo 9 1 2013 clicchiamo su conta trip e quello che otteniamo mi spiace che sia un po' piccolino comunque quello che otteniamo è il risultato ossia per ogni stazione abbiamo il numero di departure il numero di arrival il numero di partenza il numero di arrivi su quella data ok quindi torniamo nel testo per vedere se abbiamo implementato tutto correttamente ci chiedeva le stazioni devono essere elencate in ordine dell'attitudine questo l'abbiamo fatto nel caso in cui nella data selezionata non siano presenti i trip indicarlo con un messaggio di errore ok ci manca ancora questo punto per selezionare i trip per quella data e vedere quanti sono questo è un pochino diverso da quello che abbiamo fatto finora possiamo risolverlo in due modi o facciamo una somma dei vari contatori se tutti i contatori hanno somma 0 vuol dire che non ci sono trip per quel giorno globalmente per tutte le stazioni e questa è la prima soluzione la seconda invece è proprio quella di selezionare tutti i trip per quella data e farmi restituire o una lista di cui poi faccio size oppure direttamente il contatore se ci pensate nel secondo punto quello che vi viene chiesto è di selezionare i trip per una particolare data quindi direi creiamoci un nuovo metodo del DAO che mi seleziona tutti i trip per una particolare data e poi questo metodo lo sfrutto sia nel primo punto chiamando size per sapere quanti sono e se è 0 restituisco un messaggio di errore sia nel secondo punto per fare la simulazione quindi questo è un esempio di come cercare di svolgere entrambi i punti nello stesso tempo per minimizzare il costo dell'implementazione quindi andiamo nel DAO tra l'altro abbiamo un metodo getAllTrips questo metodo getAllTrips in realtà non lo vado mai a utilizzare se non nel test DAO posso direttamente modificare questo aggiungendo la data quindi non mi restituisce tutti i trip ma mi restituisce tutti i trip di una data quindi modifico l'implementazione aggiungo local date date e nella query scrivo select asterisco from trip where e come ho fatto prima date start date uguale punto interrogativo quindi seleziona tutti i trip che hanno come data di partenza come data non come timestamp quella che passo come argomento come parametro scusate e devo impostare questo parametro quindi st.setDate in posizione 1 date punto value of date quindi nel model posso crearmi un metodo public list trip get trips by date a cui passo un local date e quello che fa questo metodo è semplicemente chiamare il DAO e restituirmi la lista del DAO quindi return vi DAO punto get trips get all trips e gli passo date perché ho creato un metodo perché questo poi lo andrò a utilizzare sia nella simulazione che in get trip counts e quindi mi conviene avere un metodo separato quindi semplicemente scrivo get trips by date se non all'interno della funzione get trips count mi chiedo quanti sono i trip totali per quel giorno chiamo il metodo get trips by date e gli passo date se la dimensione è uguale uguale a zero quindi if get trips by date di size uguale uguale a zero quindi non ci sono trip per quel giorno return null ovviamente questa condizione la posso gestire in diversi modi e sono tutti ugualmente validi sto gestendo la condizione di errori in cui non ci sia una trip per la data selezionata vedo principalmente due soluzioni la prima è ritornare null quindi un puntatore ha una lista che è null e nel controller mi chiedo se questa lista è null allora stampo un messaggio di errore se la lista è diversa da null invece itera e stampa il contenuto della lista la seconda soluzione è all'interno è quella di creare un oggetto un oggetto speciale chiamato risultato che all'interno ha un flag questo flag può essere true o false se ci sono trip o meno per quella giornata e poi all'interno di questo oggetto result salvare anche la lista e quindi globalmente non ritornare più questa lista count result ma ritornare questo mega oggetto result sì potresti farlo l'unica cosa è che gestire le condizioni non proprio di errore ma le condizioni di fatto è una condizione di controllo cioè gestire un if con un'eccezione è da evitare perché gestire le eccezioni dal punto di vista della Java Virtual Machine è circa 10 volte più pesante che gestire un if e anche se il programma funziona correttamente è meglio evitarlo quindi è meglio utilizzare le eccezioni effettivamente per le condizioni di errore oppure per le condizioni che si verificano molto raramente quindi direi che per limitare le modifiche al programma se ritorniamo null è la cosa più semplice ed è comunque una soluzione più che valida e nel controller devo solo controllare che result sia diverso da null quindi if results è uguale uguale a null txtresult punto settext non ci sono trip per la data selezionata e poi faccio return ricordatevi sempre di fare return quando fate un controllo di questo tipo perché altrimenti finita nel for iterate su un oggetto che è null e poi avete una null pointer exception verifichiamo che tutto quanto sia corretto andiamo nel controller proviamo a eseguire l'applicazione se selezioniamo il 9 1 2013 abbiamo una soluzione corretta se andiamo nel 2018 e selezioniamo il 9 12 2018 ci dice non ci sono tripla data selezionata quindi sembrerebbe funzionare correttamente e con con questo abbiamo terminato il primo punto è importante che questo lo dico per l'esame che nell'implementazione che fate non ci siano eccezioni quindi quando il programma viene eseguito non vengono generate eccezioni queste vengono gestite quindi se c'è un problema al db catturate l'eccezione insomma cercate di strutturare il programma in modo tale che non vengano fuori errori ok quindi se proprio volessimo rifinire l'implementazione di questo metodo potremmo aggiungere un try catch aggiungendo un runtime exception e stampando un errore di connessione al db questo perché nella mia implementazione so che la runtime exception viene generata soltanto se c'è un errore di connessione al db quindi sono sicuro che se viene generata un'eccezione è soltanto dovuta all'errore di connessione al db ovviamente è importante scrivere runtime exception e non exception perché se scrivo exception vuol dire che tutte le eccezioni vengono catturate e invece voglio catturare soltanto quelle relative alla connessione al db potrei anche essere più specifico il pattern per fare try catch il pattern di una programmazione su come gestire le eccezioni è quello di essere il più specifici possibile quindi mettere nel catch l'espressione sia l'espressione l'eccezione più specifica possibile alla condizione di errore che voglio trattare quindi mai scrivere exception ma sempre scrivere connect db exception runtime exception comunque cercare di essere specifici perché altrimenti se scrivete exception è difficile gestire il programma perché è troppo generica l'informazione che ricevete ricevete sotto l'informazione su è capitato qualcosa qualcosa di grave come faccio a recuperare lo stesso del programma devo sapere che cosa è successo nel dettaglio per recuperare lo stesso del programma in realtà in questo caso se c'è un errore di connessione al db è difficile recuperarlo però se il programma fosse un pochino più complesso è possibile che ci sia una sorta di piccola macchina statica che va avanti su cui itera e quindi è importante mantenere l'implementazione non è consistente mantenere la possibilità di ripartire e di reiterare su questa macchina stati ok quindi finito il primo punto passiamo alla simulazione cosa succede nella simulazione? abbiamo se ci ricordiamo il testo abbiamo due valori in input che sono di nuovo la data selezionata dall'utente è il valore k che mi dice la percentuale di occupazione iniziale delle stazioni quindi prima cosa devo ottenere questi valori quindi metto di nuovo il try catch come prima cancello txtresult ottengo il valore della data pick data appunto get value questa volta però devo anche controllare che sia un giorno feriale quindi dal lunedì al venerdì quindi if date punto get day of week punto punto get value questo mi restituisce l'intero quindi se day of week che è una enum che va da monday a sunday e ottengo il valore effettivamente sotto questa enum che quindi va da 0 fino a 6 0 è monday e 6 è sunday è maggiore di 4 quindi è maggiore di al venerdì perché 4 è venerdì 5 è sabato e 6 è domenica 6 è maggiore di 4 vuol dire che è sabato o domenica allora devo stampare un stato di errore txt result punto set text selezionare una data dal lunedì al venerdì e poi aggiungete le istruzioni return quindi quando fate tutti i controlli di errore oltre a mettere la stampa mettete anche return perché altrimenti l'esecuzione è il programma continua ottengo anche il valore k come faccio a ottenerlo c'è uno slider che è di nuovo quel componente di javafx che permette di ottenere un valore spostando questo slider e slider k punto get value di nuovo ci dà il valore che è un double double k uguale sul valore k in realtà non posso fare nulla nulla cioè non devo fare alcun controllo perché il valore k è corretto per definizione non è possibile avere un valore k non corretto quindi ottenuta la data che deve essere corretta ottenuto il valore k posso chiamare la simulazione quindi model punto simula e gli passo il valore k e la data quindi date k quindi crea il metodo simula all'interno del model riguarda la simulazione generalmente io preferisco creare una nuova classe a parte dove implementare tutto il codice della simulazione e utilizzare lo stesso pattern anche in questo caso quindi creare una nuova classe simulazione sim uguale new simulazione in cui passo il valore date e k perché creare una classe separata perché tipicamente nella simulazione c'è un metodo che viene chiamato run comunque che esegue la simulazione e poi c'è tutta una serie di variabili di contorno e di oggetti come l'oggetto evento che sono necessari al funzionamento della simulazione ed è carino implementarli in un pacchetto che è separato dal resto dell'implementazione quindi tipicamente dopo aver creato l'oggetto simulazione chiamo il metodo run per avviare la simulazione poi vedremo come ottenere come spostare il risultato della simulazione dal model al controller come potete intuire essendo di nuovo una combinazione di valori perché quello che dobbiamo restituire è il numero di drop miss pick miss cioè il numero di volte che l'utente va in una stazione non può depositare la bicicletta o non può prenderla perché non sono disponibili secondo dobbiamo restituire una coppia di valori la soluzione più semplice sarà di nuovo creare un nuovo oggetto wrapper dove salvarli però questo poi lo vedremo più tardi quindi sono nel model nel package model creo un nuovo oggetto simulazione creo una classe simulazione che ha una data associata quindi private local date date e un valore k private double k questi valori vengono inizializzati nel costruttore public simulazione local date date double k dis.date uguale date dis.k uguale k quindi inizializzare la simulazione di cosa bisogna sempre in una simulazione di una coda generalmente non sempre ma nella maggioranza delle simulazioni bisogna di una coda perché c'è un susseguirsi di eventi che devono essere organizzati secondo una determinata sequenza in questo caso la sequenza temporale quindi quando è che mi serve una coda quando ho degli eventi da processare e in particolare ho bisogno di una priority queue di una coda ordinata ordinata per priorità se questi eventi hanno una qualche relazione l'uno con l'altro ad esempio una relazione temporale in questo caso ho una relazione temporale perché ho il campo start date start si dovrebbe essere start date cioè quando l'utente effettivamente si reca alla postazione e quindi devo ordinarli i trip per data di inizio start date la domanda che qui mi faccio l'unica domanda è ma come eventi quanti eventi ho ho due tipi di eventi ho l'evento di pick l'evento drop pick significa cerco di prendere una bicicletta drop significa cerco di depositare una bicicletta ho due tipi di eventi e per ogni trip è associato una data di pick e una data di drop quindi quali eventi devo inserire all'interno della coda tutti i trip duplicati cioè devo inserirli due volte sia per la data di di pick che per la data di drop quindi cosa faccio inizializzo la coda con gli eventi duplicati tutti gli eventi con i trip duplicati oppure l'inserisco soltanto per la data di pick e poi man mano che processo gli eventi per pick aggiungo il drop ossia inserisco inizializzo la coda completamente mettendo tutti gli eventi possibili oppure metto soltanto gli eventi di pick e poi man mano aggiungo gli eventi di drop diciamo subito che per l'esame secondo me entrambe le soluzioni andavano bene in questo caso preferirei fare la la seconda cioè aggiungo soltanto gli eventi di pick e inserire gli eventi drop se il pick è dato a buon fine perché ovviamente se l'utente si reca a prendere una bicicletta e questa bicicletta non esiste perché ad esempio la stazione è vuota e quindi non può prendere effettivamente la bicicletta non ha molto senso considerare l'evento drop se la bicicletta non è stata presa quindi falserebbe un pochino i risultati della simulazione ai fini di impostare correttamente processare correttamente la simulazione entrambe le soluzioni vanno bene ai fini di avere dei risultati un pochino furbi secondo me solo la seconda soluzione è accettabile però siccome all'esame secondo me valutiamo più la capacità di impostare un problema ovviamente anche di risolverlo in modo intelligente ma quello che valutiamo è la capacità di impostare la simulazione o la ricorsione o quello che è nel modo corretto secondo me entrambe le soluzioni poi andavano bene erano corrette quindi vediamo come impostarla abbiamo detto che abbiamo bisogno di una priority queue quindi private priority queue pq creiamo nel costruttore una priority queue e poi implementiamo il metodo run quindi public void run questo metodo run si occupa anche dell'inizializzazione della coda adesso il codice può essere messo all'interno di run può essere messo all'interno del costruttore non fa molta differenza l'importante è che a un certo punto dobbiamo inserire degli eventi all'interno della coda abbiamo detto che inseriamo soltanto gli eventi di peak quindi ho bisogno di tutti i trip per una particolare data per ottenere tutti i trip di una particolare data devo avere accesso al model come si fa ad avere accesso al model? ho bisogno di un puntatore all'oggetto model che ad esempio potrebbe essere passato nel costruttore quindi nel costruttore aggiungo una terza variabile che è model model e creo anche una variabile privata locale model e a questa variabile locale associo il puntatore model che mi viene passato quindi fate attenzione non sto creando un nuovo model ma sto passando dal model all'oggetto simulazione il puntatore a se stesso quindi all'interno dell'oggetto simulazione poi conosco il model ma non perché ne ho creato uno duplicato ma perché il model mi ha passato proprio il suo riferimento ricordatevi questi qui sono variabili che all'interno hanno un riferimento a un oggetto non sto duplicando l'oggetto non sto facendo una deep copy sto facendo semplicemente una copia del riferimento quell'oggetto quindi nel metodo run posso finalmente ottenere la lista degli dei trip associati ad una data passando al model model punto get trip by date e gli passo la data mi istituisce questa lista di trip per ogni trip adesso devo creare un evento associato al trip e inserirlo all'interno della coda quindi private class event crea una classe event crea una classe nested all'interno di simulazione è inutile che crei un nuovo file con la classe evento perché tanto la classe event esiste soltanto in relazione alla simulazione e quindi è corretto crearla nested all'interno della classe evento quali informazioni devo salvare devo salvare l'informazione di sicuro sul trip in questione sul tipo di evento e sulla data sul tipo di evento è abbastanza facile capire il perché perché quando poi andrò a elaborare gli eventi della simulazione devo capire che tipo di evento ho sotto mano se è un evento di peak dovrò fare determinate azioni se è un evento di drop devo farne delle altre quindi bisogna sapere il tipo qui diciamo event type type poi ho detto bisogno della data perché ho bisogno della data perché devo ordinare gli eventi all'interno della coda per data di arrivo e terza cosa ho bisogno di avere un riferimento al trip stesso allora molto probabilmente è meglio mettere al posto di local date local date time perché forse local date adesso non mi ricordo se local date contiene anche l'informazione sul timestamp può contene anche l'informazione sul timestamp lasciamo local date scusate poi in caso lo modifichiamo successivamente dobbiamo creare il tipo di evento evento di pick evento drop creiamo una enum quindi private enum event type e di tipo pick oppure drop che cos'è una enum la enum è semplicemente una struttura che associa ad ogni parola chiave ad ogni identificativo un intero crescente quindi il primo elemento pick avrà associato l'intero 0 e il secondo elemento drop avrà associato l'intero 1 perché utilizzare una enum? perché è molto più semplice utilizzare dei tag testuali come pick e drop che dei numeri 0 1 è solo una questione di convenienza nel momento in cui si scrive il codice ma di fatto sono due interi sono 0 e 1 la stessa cosa era definita sui giorni della settimana infatti prima avevamo detto che i giorni della settimana erano da Monday a Sunday erano definiti come una enum e infatti abbiamo utilizzato la loro relazione tra numero e tag per per fare il controllo avremmo anche potuto scrivere giorno della settimana maggiore di davideweek.friday se avessimo voluto mantenere la relazione tra testuale in quel caso lì ho preferito utilizzare gli interi ma di fatto è la stessa cosa quindi abbiamo creato event type quindi abbiamo creato l'oggetto event dobbiamo aggiungere un costruttore public event ovviamente passiamo tutte queste informazioni quindi utilizziamo eclipse per generare il costruttore utilizzando tutti i field e siccome stiamo parlando di una priority queue gli eventi all'interno della priority queue devono essere ordinati e quindi come prima come facciamo a ordinare degli eventi questi eventi devono implementare la classe event deve implementare comparable comparable di event in questo caso non siamo noi a chiamare collection.sort o il sorting sulla priority queue ma è la priority queue che internamente gestisce gli eventi in modo ordinato gestisce gli addetti in modo ordinato quindi qualunque volta noi andiamo a aggiungere un qualcosa la priority queue fa in modo che questa aggiunta venga fatta in modo ordinato quindi internamente chiamerà il sorting ma questa operazione è trasparente noi dobbiamo semplicemente fornire a priority queue un oggetto che implementi l'interfaccia comparable aggiungiamo l'implementazione mancante e quello che dobbiamo fare è trip.get start date scusate date perché ce l'ho già date punto compare to o punto date guardando in trip però questi oggetti hanno una variabile tipo local date time quindi come prima mi stavo confondendo è meglio utilizzare local date time piuttosto che local date perché la differenza è che local date non ha l'informazione sul timestamp invece local date time ha l'informazione anche sull'ora quindi in questo caso è meglio utilizzare local date time perché stiamo trattando gli eventi relativi alla stessa giornata ma con orari differenti quindi nel metodo compare to semplicemente facciamo return di date che è un local date time compare to dal progetto punto date adesso direi che possiamo terminare qui e continuare la prossima volta facciamo solo il punto della situazione abbiamo creato la classe simulazione abbiamo creato una priority queue abbiamo creato l'evento da aggiungere all'interno della priority queue abbiamo il tipo di evento che sono due tipi pick e drop e abbiamo anche i trip selezionati per quella data quindi abbiamo quasi tutte le informazioni quello che ci manca adesso segniamocelo è aggiungere gli eventi alla priority queue e poi processare gli eventi e in ultimo ritornare il numero di drop miss e pick miss quindi quello che vi consiglio è noi ci vediamo tra una settimana in questa settimana provate a terminare l'implementazione di questa simulazione e poi tra una settimana confrontiamo la vostra implementazione con la mia nella prossima lezione se non avete domande avete delle domande su quanto fatto allora ci vediamo questa settimana buona giornata